state registrando qualcosa di nuovo ma io credo che voi state sempre al lavoro guarda allora in realtà ci sono i periodi in cui ti focalizzi no? per esempio ragazzi madre abbiamo fatto una bella chiusa di mesate in studio io e lui senza mai uscire alla luce del sole lavoriamo 15 ore al giorno penso uscivamo alle 9 di mattina dal studio dopo 15 ore alle 10 di mattina con tutti che si svegliavano anzi già in piedi da mo e io gli dicevo Edo non ti preoccupare fai finta che tu sia una guardia giurata lui così ma Laura non ce la far moriremo una volta mi avete raccontato di quando avete affittato quella villa avete affittato una villa bellissima si saprà si saprà e avete lavorato lì figa quella cosa figo quello però avevo mood anni 70 come ne parlavamo prima in 10 siamo andati tutti i produttori che vabbè c'è stato un livello proprio di follia mille ho registrato tua rilla ah ok